un attimo no 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 schiappone un po' di 3 per cui adesso mi dite voi cosa volete fare allora noi normalmente facciamo fare specchie e così vediamo i parametri di volo corretti ok ok quindi io sto volando sta volando in direzione di circa Zorigo in grosso modo Zorigo va bene ma attenzione attenzione perché non scende ecco quando vira deve trattenerlo leggermente l'aereo quindi tirare sul muso di poco non troppo perché se no esce dai famosi parametri per questa ragione perché l'aereo come vira siccome un'ala la bassa quella interna si abita scendendo ok quindi se non si vuole precipitare posso andare più veloce più veloce con quest'aereo mobile no e qua siamo al top rate dell'aereo mobile è un cesmo ok perfetto una domanda geonastica cioè può andare a oltre 90 entro 120 nodi che comunque sono sempre 90 nodi sono 180 km all'ora circa può andare di più soltanto se ad un certo punto lei mi livella quindi non mi sale più e quindi non salendo più il profilo dell'ala oppone il minor numero la minor resistenza possibile sì che dando massima potenza o comunque dando potenza sia questa velocità poi bisogna tenerlo sotto controllo per evitare di adesso faccio una domanda lei sa dove sta andando